Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Matrindir8 ed oggi siamo qui su Rocket League Siamo nel duello solitario Ghost Clown Ciao, sto registrando Rocket League Sì, allora Ecco qui ragazzi, siamo prontissimi, vai 3, 2, 1, 2 Mamma mia ragazzi, vai Questo è il gol Mamma mia, gol da centrocampo, gol da centrocampo Mamma mia ragazzi, siamo incominciati benissimo Mamma mia, allora, 2, 1, via Mamma mia, primo tocco Ok, allora andiamo a prendere, andiamo a prendere L'isciata Oh lei Oh lei ragazzi Vai andiamo Ok Bam No, annaccio ragazzi Ok, ok, ok Ok, ma l'ho distrutto Sì, è incazzato Sì, è incazzato Best mod No, 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 no A bén Ho, chi no Iniciatia Iniciatia Oh lei Iniciatia Iniciatia St maintained Istiss chel Andiamo 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 Mamma mia ragazzi Mamma mia Senza il turbo Ed è un grande goal Grande goal ragazzi Mamma mia Ok Ok ragazzi andiamo andiamo Ripartenza ripartenza Ok andiamo Ok Andiamo Mamma ragazzi Difesa Mamma mia Ok Ok Vedete Mamma mia Ragazzi esageratamente esagerati No è bisciata In assoluto In assoluto Eh sì Figa Ok Ok ragazzi Mamma mia Questa è allontanata Oddio ragazzi Mamma mia Che abbiamo salvato qui Mamma mia Esagerato Mamma mia Ragazzi punti Vai Vanno Vado 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 Ok Benissimo 24 di turbo Ok ragazzi Via ragazzi vai Beast mode Beast mode Muori Allora Di tutto Di tutto La morte Ci ha convinto Beast mode Allora Vai Prendiamo il turbo Prendiamo il turbo Ok La palla Maledetta Andiamo a vedere Andiamo a vedere Benissimo L'abbiamo fatto benissimo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Cinque gol Boom Pam Pam Ce l'ho spinto in pratica Dentro la porta Due Uno Via Pam Olè Benissimo ragazzi Olè Ma adesso si fa andare E siamo a sei gol Sei gol No Tu non lo sei Jessica Oddio ragazzi Abbiamo fatto una tutta nave Benissimo Stiamo Stiamo vincendo Sei a due Vai Andiamo 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 No Raga Un bastardo Ma adesso E qua Ma adesso Mamma Andiamo 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 7 a 2 7 a 2 Mamma mia 2 1 Via Pam Primo tocco Vai Pam Ragazzi No Perché Pam Ah ragazzi Volevo poi ringraziarvi Per i 54 Iscritti Siete grandissimi Ragazzi Mamma mia Ho fatto pure il goal Dedicato a voi Ehm Veramente Crescete a mismisura Siete grandi Allora Mamma mia Ragazzi Ed è un goal Da centrocampo 9 goal 9 goal Mamma mia Tripletta One Ho fatto proprio La combo Oggi 3 2 1 Mamma mia No ragazzi No ragazzi No 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 Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One E ho fatto il goal Secondo me Mamma mia Abbiamo vinto ragazzi 9 a 2 Abbiamo vinto Allora Ragazzi Direi che per questo episodio In singolo è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Con Ghost Clown E ragazzi Un abbraccio Maternitiraotto Ciao